Giorgio, Penistero è una storia di famiglia. Qual è la storia della vostra azienda? Beh, la nostra nasce come azienda di origine contadina. I miei genitori coltivavano la terra, coltivavano anche un po' di vigna e poi di lì siamo partiti tutti, di lì siamo nati tutti. Abbiamo iniziato anche a dare un po' di internazionalizzazione a quelli che sono i frutti della nostra terra. Quanto è importante il territorio per i vostri vini? Oggi il territorio delle Langhe, il territorio nel quale si producono Barbaresco e Barolo, due delle eccellenze mondiali che l'Italia riesce a comunicare, è qualcosa che ci viene invidiato un po' in tutto il mondo. Qual è il progetto al quale tieni di più? Nel 2020 abbiamo festeggiato i 60 anni di storia dell'azienda, le prime bottiglie aveva fatte mio padre nel 1960 e nascono in questa vigna qua e nascono in questo territorio qua e per questo abbiamo creato questa bottiglia simbolo dei 60 anni. Dove spedite maggiormente? Noi vendiamo vino in 70 paesi del mondo per fortuna e chiaramente l'Europa è il mercato all'interno del quale siamo più presenti. Qual è il servizio di Pallet Waste che soddisfa al meglio le vostre esigenze di consegna? I prodotti che noi facciamo sono prodotti importanti, sono prodotti prestigiosi, hanno bisogno di essere trattati in un determinato modo. Avere non solo la rapidità di consegna ma avere anche il rispetto per la scatola di vino che metti sul camion, che metti a portare da qualche parte del mondo è una cosa molto importante. Giorgio, quanto è importante poter contare su un partner affidabile per il trasporto? La rapidità nella consegna è chiaramente una delle cose importanti ma soprattutto il rispetto di quello che è il nostro lavoro.